E' polemica a Bellizzi dopo la vandalizzazione dei campetti situati in località Bivio Pratole. I gnoti si sono introdotti all'interno dell'impianto danneggiandolo in numerosi punti, a cominciare dagli spogliatoi e dai vici dei campetti. Sono tanti i quartieri abbandonati, tuona il consigliere d'opposizione Angelo Maddalo e Bivio Pratole è tra questi. I campetti di calcio sono sempre più vandalizzati e distrutti, ricettacolo di rifiuti e altro. 20.000 euro dei contribuenti lasciati marcire.